Benvenuti su Master & Servant, io sono Ol, questo è il vlog di settembre 2017. Sono da solo anche questa giornata perché in realtà lo stiamo registrando in agosto e agosto come ben sapete è un momento feriale e così anche tutti i video che vedrete in settembre sono stati registrati in agosto quindi vi beccherete magari meno collaborazioni, meno cose di questo tipo che partiranno, riprenderanno da più o meno ottobre-novembre. Sabato e domenica come per gli altri mesi, luglio e agosto, non portiamo nessun video portiamo quindi video solamente dal lunedì al venerdì e quindi ingrandisco l'immagine così la leggete meglio. Come vedete siamo di nuovo fasati su un video al giorno, la mattina e credo terremo questo ritmo di pubblicazioni perché il mondo dei let's play strategici è abbastanza zeppo di video e quindi non vogliamo comunque sovraccaricare la distribuzione e secondo noi un video al giorno è una cosa buona che potete seguire in 20 minuti e vi potete anche dedicare tipo al resto della vostra vita o altri youtuber molto più bravi e più noti di noi. Quindi fateci comunque sapere cosa ne pensate l'idea è quella di quindi tenere un video al giorno da lunedì al venerdì magari introducendo anche sabato e domenica quando avremo ripreso la frequenza autunnale, invernale e primaverile e generalmente a tenerli alternati quindi un giorno una serie, un giorno un'altra così da affaticare meno. A settembre come potete vedere ci sono due serie la prima è Succession Mercia che continua da agosto quindi non ci sono state interruzioni ma se fate caso verrà pubblicata il martedì e il giovedì così da arrivare fino al 28 di settembre con la fine del mio gameplay e il passaggio del Save Game As Moist che arriverà poi in ottobre magari ottobre decideremo di riportarlo tre volte a settimana comunque per il momento lo lasciamo così questo lascia spazio a tre pubblicazioni che questo mese saranno riempite da una nuova serie che vi avevo già fatto vedere dato qualche piccolo accenno durante il vlog del mese scorso e avete visto il trailer due giorni fa circa comunque alla fine di agosto questa nuova serie è un achievement run fatto dal sottoscritto sempre su Europa Universale S4 e si chiama Arabian Coffee ossia formare l'Arabia non saudita l'Arabia in senso molto allargato e diventare i maggiori produttori e esportatori di caffè al mondo come vedete verranno pubblicati 13 episodi questo mese e quindi il mese è pieno e io ho già registrato il tredicesimo episodio quindi quello che vedete nel palinsesto è già pronto online non avrete buchi tranne un giorno credo no non ho lasciato buchi il buchi li ho lasciati solo in agosto per poter portarvi a Arabian Coffee episodio 1 da settembre questo è tutto vi preannuncio quello che succederà probabilmente tra ottobre, novembre e dicembre stiamo per prendere contatto con altri youtuber che trattano sempre i nostri argomenti e far partire delle collaborazioni tra diversi canali youtube quindi vi faremo sapere al momento giusto che cosa ci sarà quale sarà chi saranno i youtuber che collaboreranno con noi e quali saranno i loro canali e dove potrete vedere i video registrati da loro in co-op con noi chiaramente metteremo tutti i video comunque sul nostro canale come link quindi seguendo il nostro canale non vi perderete nulla di tutta la serie e sono molto contento e ve lo farò sapere appena potrò darvi i nomi degli amici che ci danno una mano fronte iscrizioni siamo arrivati a quota 82 credo oggi che sto guardando e sto registrando il video è una cosa bellissima come al solito continuate così ci state facendo veramente tanto piacere e felici e quindi continueremo a fare video e con settembre si ricomincerà la pubblicazione costante ciao a tutti buon settembre io vado in ferie finalmente e ci vediamo prestissimo